Scusi, non so perché, sta cercando questo Antonio Antonelli che abita a Napoli e abbiamo cercato online, abbiamo trovato il suo numero di telefono. Ok, ok, perfetto. Ok, ok, perfetto, niente perché era il suo numero di telefono. Ok, ok, perfetto, grazie mille, scusi il disturbo. Dire se lo trova che lo chiamano, che lo chiamano a me. Ok, ok. Se lo trova, se lo trova. Mi dispiace un sacco che l'ha chiamata a quest'ora. Ok. Ok, arrivederci, buona serata. No, grazie. Ok, non è quello giusto. No, è lui, no? Chi ha più? Un altro numero? No, non ce ne so più. No? È tutto timida. No, è un po'. Stava dormendo, stava dormendo. Sono le dieci e mezza. Sì, non è molto, le dieci e mezza, ma non è molto tanto. Eh, vabbè, un pochettino. La mafia, tutto è mafia, tutto è mafia, tutto è mafia, tutto è Italia, mafia, tu. Si va a dormire alle tre o alle quattro della mattinata, la mattina, no? Matì, in catalana è mattì. In italiano? In italiano è mattina.